Piccoli ma importanti passi in avanti per la definitiva messa in sicurezza della discarica per rifiuti speciali inerti incontrata a San Nicolà ad Andria. Il sito cosiddetto ex Fratelli Acquaviva è destinatario di un finanziamento regionale di circa 4 milioni di euro per la chiusura definitiva ed è in corso la procedura tutta burocratica che permetterà il rilascio del provvedimento di via, la cosiddetta valutazione di impatto ambientale. Ieri la comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico e l'avvio dei termini di decorrenza per la consultazione del progetto da parte dell'Ager. La valutazione di impatto ambientale è un documento necessario per proseguire l'iter che però è ormai alle battute finali e che prevede importanti lavori di sistemazione del sito. Un luogo rimasto a lungo al centro di polemiche politiche poiché individuato dalla regione sino a tre anni fa come possibile luogo dove realizzare un impianto di biostabilizzazione. Una ipotesi a cui in tanti si sono opposti compresi i consiglieri regionali dell'epoca e l'amministrazione comunale sino alla definitiva cancellazione arrivata nell'ultimo piano di gestione dei rifiuti regionale. Un sito comunque in cui vanno effettuati diversi lavori se si considera che all'interno dell'ex cava grande 45 mila metri quadri sono presenti circa 125 mila metri cubi di rifiuti di vario genere. L'ex cava dei fratelli Acquaviva per cui la gestione è diventata della regione a causa delle inadempienze della Daneko si trova accanto alla discarica dei rifiuti solidi urbani ormai chiusa da anni. Nel progetto di chiusura definitiva già realizzato dall'Ager che nel 2020 aveva già bandito ed assegnato la gara d'appalto diversi sono i punti essenziali che riguardano proprio l'analisi della qualità dell'inerte presente finalizzata ad escludere la presenza di tipologie diverse di rifiuti. Bisognerà poi risagomare il corpo della discarica riducendo la superficie utilizzata e i rifiuti stessi presenti ma soprattutto andrà ripristinato il sistema esistente di raccolta del percolato. Altri due importanti interventi riguardano infine l'isolamento definitivo dei rifiuti dall'ambiente circostante e la realizzazione del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche che rappresentano secondo la relazione dell'Ager la maggiore criticità ai fini gestionali della discarica. Il finanziamento per questi lavori è stato appostato dalla Regione Puglia grazie al Fondo per lo Sviluppo e la Cohesione Sociale e l'inizio dei lavori è previsto come da cronoprogramma entro il primo maggio di quest'anno per concludersi entro fine 2022. Date che potranno inevitabilmente subire delle variazioni ma che si spera possono essere rispettate per operare effettivamente in un sito che resta da diversi anni una vera e propria bomba ecologica in attesa di sistemazione e post gestione.